Torna ad essere operativa, dopo diversi anni di inattività, la sala operatoria dell'ospedale Ferro Branciforti Capra di Leonforte, con quattro interventi programmati ed effettuati nella giornata di oggi. Il confronto continuo tra l'ASP di Enna e il sindaco di Leonforte, Pietro Livolsi, supportato anche dai colleghi sindaci degli altri comuni del comprensorio, ha permesso non soltanto di far rientrare all'ospedale di Leonforte nei giorni scorsi cinque infermieri temporaneamente trasferiti a Enna, ma anche la riapertura della sala operatoria. Un'equip composta anche dal personale rientrato dal capologo ennese sarà impegnata a garantire una o due volte a settimana lo svolgimento di interventi chirurgici programmati al Ferro Branciforti Capra. A dare l'annuncio è stato il primo cittadino leonfortese, passo dopo passo stiamo cercando di rilanciare le attività sanitarie presso l'ospedale di Leonforte, ha scritto il sindaco Livolsi sui social. Ringrazio la direzione dell'ASP per l'attenzione al nostro territorio e per avere rispettato gli impegni assunti con i sindaci di Assoro, Nissoria, Gira, Regalbuto e Leonforte, rappresentanti del distretto. Nell'incontro ha avuto il mese scorso per il rilancio del nostro ospedale.